Ciao amici miei, che bello che siete qui. Io e Daisy volevamo leggere un libro. Daisy cerca la sua pecorella di peluche preferita per poterla abbracciare mentre leggiamo. Un negozio di animali! Wow! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato, sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.